Mi hai detto che il ripetitore arriva bene, però hai dei problemi ad agganciarlo. Bene, ancora a te, W1 non so, Z1 JVH Enzo Costiglione, a te ancora. Ripetitore Inga Romeo 1, Delta Hotel, Montaldo Sarampi Asti. Perfetto Enzo, facciamo una prova solo sul nominativo, India X-Ray 1, Italia Xilofono 1, è il prefisso, Valle d'Aosta, e poi Charlie Kilo November, Como Kilo Napoli, QSL? Sì, Charlie Kilo November, devo aver capito Charlie Kilo November, passi al pelo, ma molto frusciato, quasi incomprensibile, ho difficoltà a capire. Comunque, transiti, forse ti dico, se riuscissi, se tu riesci ad aumentare un pelo la potenza, magari riesci a transitare un pochino meglio. Ancora a te, non ho capito il tuo nome, ancora a te, me lo dirai se riesco a capirlo, a te. Perfetto Enzo, allora, il nome dell'operatore è Cristian, ripeto, il nome dell'operatore è Cristian, il QTH è Aosta, e purtroppo sono a 50 abbondanti, quindi non riesco ad aumentare molto. Ma, ti devo dire, arriva davvero bene il ripetitore, S8 abbondante, eh. A te ancora, India Zulu 1, JVH, Italia Xilofono 1, Charlie Kilo November, a te Enzo. Sì, bene, Cristian, ho capito, sì, sei proprio al limite della comprensibilità, eh, comunque. No, bene, bene, allora, mi fa piacere che il ripetitore arrivi bene lì, e beh, peccato che non hai la possibilità di aumentare un pelino, altrimenti magari con qualche avanti in più riusciresti a passare più comprensibile, di essere più comprensibile. Ok, bene, allora, Cristian, ti auguro buona giornata e buon tutto. Io, come dicevo prima con Giancarlo, collega che stava facendo QSO, due parole, mi sono svegliato da poco, adesso vado a fare qualche lavoretto qua, qui una giornata splendida, e speriamo che non faccia troppo caldo, H.I. A te ancora, Cristian. Perfetto Enzo, sì, anche qui il cielo è completamente terso, molto sereno, e promette, ahimè, una giornata affosa come ieri, però non ci lamentiamo troppo perché in fondo, qua su, non succede spesso, e quindi va molto bene così. Io ti ringrazio, rimango in ascolto, non vi faccio dannare oltre, per curiosità le condizioni operative sono una Sigma 9 Elementi e un FT8800 con i suoi 50 Watt appunto. Ancora grazie per il QSO, per me è totalmente nuovo ripetitore, rimango in ascolto, non vi faccio impazzire oltre con la difficoltà di transito, e buona domenica a tutti. India, X-Ray 1, Charlie Kilo November, conclude sull'IR1 di H, Montaldo Scarampi. Ciao Cristian, ok K, al limite della comprensibilità comunque sei transitato. Bene Cristian, buona giornata anche a te, buona giornata, buon tutto, anche io scappo che vado a fare due o tre lavoretti di giacca fa, ancora fresco qua, fresco, fresco per modo di dire, comunque sicuramente poi dalle nove e mezza a dieci in avanti bisogna poi sospendere, sospendere, sospendere tre virgolette, però all'ombra poi si sta meglio via, diciamo così, io devo andare al sole a finire un lavoro che ho iniziato ieri, per cui è meglio che scenda, ne approfitti subito. Ciao Cristian, buona giornata, Z1, JVH, chiude, a te ancora cambio per finalizzare se vuoi. Ciao ciao, sì ho capito, IAES 8800, 50 watt, ok, bene bene. Ciao ancora, saluto anche gli eventuali in ascolto, saluto Giancarlo che è all'improvviso sparito, non ho capito se cosa sia successo, se gli è mancata l'alimentazione, se gli è caduta l'antenna, HI. Ciao Cristian, buona giornata. Ciao Enzo, Italia Z1, Juliet Victor Hotel, Italia Xilofono 1, Charlie Chilo November, 73 anche alle stazioni eventualmente all'ascolto, chiudo.